Musica Si spacciava per un medico e vendeva in rete bici rubate, indagato un trentenne albanese, perquisizioni a Fano, Gradare e Forlì, recuperati più di trenta mezzi dalla polizia. Presentato a Fano il piano sociosanitario della regione, insorgono il vescovo e disponenti del territorio. Entro maggio la nomina del direttore generale dell'azienda sanitaria territoriale 1. Parità nei livelli retributivi e nelle opportunità di carriera, nel supporto alla genitorialità e nella flessibilità dell'orario di lavoro. La regione premia Severino Capodagli, presidente della Valmex, per la valorizzazione del merito senza discriminazione. L'impatto da oltre 2 milioni di euro per il bordetto festa che anticipa a giugno le date dell'evento. Presentazioni anche a Barcellona e Londra, tra le novità, la gara nazionale delle zuppe di pesce. Erman Graziano, confermato alla presidenza dell'Avis di Pesero Urbino, oltre 20 mila le sacche di sangue raccolte nel 2022. Chi dona, ha detto il presidente della provincia, è un angelo custone per gli altri. Calcio, pallavolo, tiro a volo e city tennis. Stasera su Fano TV torna una nuova puntata di Sportissimo condotta da Andrea Maduzzi. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con i furti compiuti all'interno di garage condominali che hanno fatto scattare le indagini da parte delle squadre mobili di Pesero e di Forlì. I poliziotti hanno proceduto alla perquisizione di alcuni immobili situati a Fano, Gradare e Forlì nella disponibilità di un trentenne pregiudicato di origini albanesi che sotto falso nome, spacciandosi per un inesistente medico dell'ospedale Bufalini, metteva in vendita sulla rete biciclette che alcune vittime di furti hanno riconosciute come proprie. L'attività ha permesso il ritrovamento di una trentina di biciclette di varie fatture, alcune delle quali già riconosciute da legittimi proprietari, due monopattini elettrici nonché altri oggetti tra i quali un casco griffato Valentino Rossi. Le immagini del materiale in sequestro saranno pubblicate sulle pagine Facebook delle questure di Pesero e Forlì per agevolarne il riconoscimento e la restituzione agli aventi diritto. Il destinatario della perquisizione invece è indagato per il reato di ricettazione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesero. Ancora lacunosa la bozza del piano sociosanitario regionale presentata ieri a Fano dalla Giunta a Quaroli ha provocato la reazione dei sindaci del territorio, dei rappresentanti dell'associazione e del vescovo Armando Trasarti. Sentiamo allora il servizio e le interviste che ha realizzato per noi Massimo Foghetti. Siamo ancora alle linee generali. La bozza del piano sanitario regionale che è stato presentato dalla Giunta, rappresentata quest'ultima dal Presidente Acquaroli, dall'assessore alla Sanità Saltamartini e dagli assessori Aguzzi e Baldelli nella sala del gonfalone a Fano, non ha precisato come verrà rivalutato il Santa Croce, come verranno abbattuti i tempi di attesa, come verrà efficientato il pronto soccorso e come verrà ottimizzato il rapporto tra sociale e sanitario, in modo particolare per le persone anziane, le più bisognose di assistenza. Nemmeno quali provvedimenti concreti saranno assunti per migliorare le prestazioni sanitarie nell'entroterra, dove è stata confermata l'operatività come ospedale di base della struttura di Pergola e come nosocomi di comunità degli ospedali di Sasso Corvaro, Fossombrone e Cagli. Sono state in realtà esposte le linee generali che caratterizzano le scelte effettuate dalla Giunta di Centrodestra, contrasto alla mobilità passiva, abbandono dell'ospedale unico e realizzazione dell'azienda sanitaria territoriale già in atto. A questo proposito il nuovo direttore generale dovrebbe essere nominato entro il mese di maggio. Poi l'inserimento degli specializzanti nei pronti soccorso è un limite all'afflusso delle cooperative. Un modello che cerca di potenziare il territorio, che guarda anche all'appropriatezza delle prestazioni, che cerca una risposta strutturale alla mobilità passiva che diventa uno dei problemi principali, che cerca di riorganizzare e rimodellare il personale per fronteggiare quella che è l'emergenza carenza personale, che è un'emergenza nazionale. Sono tutte priorità inserite in un contesto ampio dove cerchiamo di costruire la visione sanitaria delle marche del futuro. Superato il modello dell'ospedale unico, che cosa si prospetta per Fano? Superato il modello dell'ospedale unico per tutta la Regione si prospetta una sanità che possa essere organizzata in maniera tale, che sul territorio si possano realizzare le prestazioni che sono da territorio e l'ospedale non diventa l'unico presidio, ma l'ultimo, cioè quello che tratta gli acuti. Perché su questi temi, poi lo diremo, si svolge anche la possibilità di recuperare risorse e potenziare un sistema che altrimenti diventa monostrutturale, cioè che oggi purtroppo, come stiamo vedendo, riesce a dare risposte solo con tempi lunghi, con tutti i ritardi che poi vediamo negli ospedali. Perché? Perché il territorio piano piano è stato sempre più impoverito e oggi non è in grado di fronteggiare le richieste, è la domanda dei nostri cittadini. Riusciremo a recuperare la mobilità passiva? È quello a cui stiamo lavorando, che è uno dei problemi più importanti dal punto di vista sanitario, ma non solo, come dirò poi nella mia relazione. Stiamo lavorando perché abbiamo visto e stiamo cercando di capire come poterla affrontare. Si prevede anche un'implementazione personale, in modo particolare per quelli di pronto soccorso? Allora, sicuramente oggi noi stiamo prevedendo con le borse di medici e medicina generale, le borse specializzanti, il massimo di quello che possiamo mettere a disposizione. Cioè c'è un personale insufficiente a sostituire il personale che va in quescenza. Stiamo cercando di provvedere e vediamo anche di risistemare gli equilibri per cercare di recuperare spazi laddove possono esserci. Alla esposizione del piano sono seguite le osservazioni e le richieste dei rappresentanti del territorio. particolarmente efficaci sono apparse le parole del Vescovo di Fano, Fossombrone Caglie Pergola, Armando Trasarti. Il presule ha messo in rilievo come il Santa Croce si sia svuotato progressivamente delle sue eccellenze, specie in fatto di prestazioni di ortopedia e neuropsichiatria infantile. Come l'eccessivo affollamento del pronto soccorso fanese sia il risultato della carenza di servizi nel territorio, si è chiesto di chi sono le responsabilità se gli ammalati vanno a curarsi in Romagna e come il più delle volte di queste criticità fanno le spese le persone più deboli. Sono intervenuti anche i sindaci di Pergola, Simona Guidarelli, di San Costanzo, Filippo Sorcinelli, di Frate Rosa, Alessandro Avaltroni, di Fano, Massimo Seri. E' chiaro che Fano deve recuperare un ruolo, un ruolo che nel tempo gli è stato anche in qualche modo limitato. Noi avanzeremo delle proposte che poi verranno perfezionate. E' chiaro che un ospedale per essere tale deve avere tutta una serie di discipline fondamentali. L'altra richiesta è che vengono implementati determinati servizi anche per contrastare il tema della mobilità. Ovviamente devono esserci delle risposte concrete e noi non saremo passivi ma saremo attivi con delle proposte vere e forti da chi conosce il territorio che si integra in un'organizzazione complessiva del territorio locale, provinciale e regionale. Il questore di Pesero Urbino, Raffaele Clemente, è intervenuto oggi sulla nota vicenda della famiglia Moneti a Pesero. Lasciare la propria abitazione in ragione di un'esecuzione immobiliare, si legge in una nota, può essere una cosa sconvolgente ancora di più quando si è in forte difficoltà come Alessandro e la sua famiglia. Per questo ha proseguito il questore. Grazie alla mediazione avviata dal prefetto, tutti noi abbiamo potuto affrontare questo passaggio doloroso in maniera ragionevole, cercando di contenerne gli effetti negativi. Il prefetto ci ha condotti lungo un sentiero equilibrato. La famiglia Moneti, la questura chiamata a dare esecuzione forzata nei confronti di una famiglia fragilissima, e il comune di Pesero che si è attivato sia economicamente che operativamente con due assessori. Tutti hanno fatto quel che potevano col cuore. Aggiungo, ha concluso il questore, che è proprio grazie a questa attitudine, al dialogo e alla pazienza che le istituzioni non sono meccanismi aridi e in case estremi apparentemente feroci. Tutto ciò che in questa vicenda non siamo stati. A Mondolfo è stato presentato un nuovo spazio di ascolto psicologico. Si parte giovedì 27 aprile con un incontro che vedrà ospite il CT Davide Mazzanti. Si chiama la parola Crea ed è uno spazio di ascolto psicologico rivolto a tutti i cittadini e residenti nel comune di Mondolfo che sentono la necessità di un confronto con personale qualificato al fine di ricevere una consulenza e un sostegno di natura psicologica in relazione a temi ed eventi della propria vita personale o familiare. Il progetto è stato presentato ieri dal sindaco Nicola Barbieri, dall'assessore ai servizi sociali Alice Andreoni, dal consigliere con delega alla cultura Eve Mattioli e dalla psicologa psicoterapeuta Silvia Lippera. In questa accezione di cultura è diversa dal solito, nell'ottica del promuovere una cultura del benessere psicologico e fare un'attività di prevenzione primaria rispetto al disagio psichico. Allo sportello sarà presente una professionista, la dottoressa Silvia Lippera, che ringraziamo, che collaborerà con noi e questo sportello nasce proprio con l'intento di voler intercettare i bisogni d'aiuto. Sappiamo tutti che veniamo da un periodo post pandemia che ha amplificato e ha aumentato in maniera molto molto rilevante le richieste di aiuto per tanti motivi che possiamo immaginarci. Questo sportello nasce proprio con l'idea di accogliere questi bisogni d'aiuto, offrire alla persona uno spazio di confronto su alcuni temi, problemi che sentono di vivere in questo momento. Lo sportello sarà allestito a Villa Valentina in Viale Carducci a Marotta. L'accesso sarà gratuito e su prenotazione. Per fissare l'appuntamento si potrà inviare una mail oppure telefonare al numero indicato nei giorni e negli orari prestabiliti. Un servizio che nasce con l'obiettivo di sensibilizzare e promuovere una cultura del benessere psicologico e facilitare la possibilità di richiedere aiuto da parte delle persone. Giovedì 27 aprile a Marotta presso la Sala della Croce Rossa presenteremo il nuovo servizio in una serata dedicata al tema del benessere psicologico e sarà ospite anche il nostro concittadino Davide Mazzanti, commissario tecnico della Nazionale di Volley Femminile, che sarà testimonia d'eccezione del progetto e per questo lo ringraziamo. Approvazione del bilancio d'esercizio 2022 e destinazione del risultato d'esercizio 2022 e nomina di un nuovo componente del CDA in sostituzione di un esponente cessato dalla carica. Sono i principali argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Ordinare dei Socii della Banca di Credito Cooperativo di Fano in programma domenica 23 aprile alle 9.30 al Teatro della Fortuna. L'appuntamento sarà preceduto dalla Santa Messa in commemorazione dei soci defunti e celebrata alle 8.30 nel Duomo di Fano. La partecipazione all'Assemblea è riservata a tutti i soci della banca ai quali sarà sufficiente esibire l'avviso di convocazione ricevuto nel proprio domicilio o in mancanza dell'avviso un documento di riconoscimento in corso di validità. Questa mattina nella sala Pierangeli della provincia è stato presentato il nuovo consiglio direttivo dell'avviso di Pesaro Urbino, un'occasione importante anche per tracciare un bilancio e parlare di obiettivi futuri. Marco Lonigro. Presentato il consiglio direttivo dell'avviso di Pesaro Urbino per il quadriennio 2023-2027. Confermato il presidente Erman Graziano, 47enne docente dell'Università di Bologna che ha introdotto la squadra del suo secondo mandato. Siamo a questo secondo mandato, una bella squadra che in parte si rinnova, in parte si conferma. Importante la mission della nostra associazione che vede implementarsi su quelli che sono degli obiettivi che già nel precedente mandato volevamo portare avanti con grande convinzione e che, visti i risultati raggiunti proprio anche alla luce della pandemia, alla luce di quella che è la riforma del terzo settore, che ci ha visto sicuramente molto impegnati a ogni livello, a livello anche di quelle che sono gli aspetti relativi a tutti i cambiamenti che la privacy ci ha imposto in quelle che sono tutte le attività, in particolare lo svolgimento procedurale, abbiamo ottenuto quello che è una forte partecipazione trasversale, quindi quella che è un'intera associatività che ha visto costruire progetti davis provinciale lungo tutte le differenti associazioni, con eventi provinciali, con diffusione della cultura del volontariato, della cultura del dono, come elemento fondante e cardine per quelle che sono tutte le attività associative. Chiaramente è centrale il rapporto con le altre associazioni, perché insieme siamo più forti. Abbiamo voluto quello che sono dei responsabili d'aria, in particolare per lo sport, in questo caso c'è Cristiano Livi e Andrea Campana, che si occuperanno rispettivamente delle due realtà, delle due differenti vallate, Fausto Lucchini per quanto riguarda la scuola, una persona molto competente che lavora nella scuola praticamente da sempre, Luca Rovetta per la comunicazione, anche lui insomma persona che si occupa di comunicazione già in Avis Urbino, e Maurizio Vizzini che prenderà l'inedita delega che in passato non è mai stata fatta, ma che alla luce delle novità con cui l'associazione è impegnata con le riforme che vi ho appena citato, sarà quello che riguarda gli addempimenti associativi. Quindi per essere un Avis è sempre più di servizio per tutte le Avis comunali. La conferenza stampa odierna presso la provincia di Pesaro Urbino è stata un'occasione importante per tracciare un bilancio sulle sacche di sangue raccolte nell'anno 2022. 5.478 sacche al centro trasfusionale di Urbino che in realtà ha avuto un salto assolutamente importante dove c'è anche una maggiore difficoltà nel raccogliere il sangue perché chiaramente devono andare sul territorio con la carenza dei medici, chiaramente hanno raggiunto diciamo un doppio, triplo risultato. Pesaro invece ha avuto una flessione con 7.063 sacche, mentre Fano ha raggiunto 8.174 donazioni. Quindi segno anche insomma delle tante attività che vengono svolte. Il Presidente del Consiglio regionale Dino Latini ha conferito a Severino Capodagli, titolare della Valmex S.p.A., azienda di cartoceto leader nella produzione di scambiatori termici, l'attestato di encomio dell'Assemblea legislativa per l'impegno e le azioni messe in campo a livello aziendale per il superamento della differenza di genere. Per l'occasione Capodagli era accompagnato dalle figlie Francesca e Lucia, entrambi facenti parte della compagine aziendale, e dalla responsabile delle risorse umane Tiziana Barilotti. L'azienda, che conta circa 400 dipendenti e con oltre 40 anni di attività, ha recentemente ottenuto la certificazione che attesta la messa in atto di azioni concrete che puntano alla buona qualità del lavoro, all'inclusione e alla valorizzazione della capacità e del talento. Questa è la quinta certificazione affermato Capodagli, dopo la prima ottenuta ad inizio degli anni 90, ma con un particolare valore e significato che premia l'impegno per la parità nei livelli retributivi e nelle opportunità di carriera, nella leadership femminile, nel supporto alla genitorialità, nella flessibilità oraria aziendale. Diventa sempre più internazionale il Brodetto Fest che quest'anno torna a fanno con nuove date. L'evento, che si svolgerà dall'1 al 4 giugno, verrà presentato anche a Londra e Barcellona. Certificare il grande valore del festival è una ricerca dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bocchi che ha valutato in 2 milioni di euro l'impatto economico della manifestazione. Servizio di Filippo Pucci. Sarà il Brodetto Fest ad aprire la stagione degli eventi 2023 nella città fanese. Diverse le novità di questa ventunesima edizione, prima tra tutte il cambio delle date che dal canonico mese di settembre si anticiperà dall'1 al 4 giugno su tutto il lungomare Simonetti in zona Lido. Quest'anno abbiamo deciso di dare voce alla nostra marineria, ai nostri pescatori, ai prodotti del nostro mare e soprattutto all'importanza del consumo del pesce fresco. E siccome il Brodetto è sinonimo di pesce fresco, povero ma fresco, del nostro mare, quest'anno abbiamo deciso di dare più importanza a tutto il comparto della marineria. Abbiamo già deciso di incrementare il numero dei brodetti che faremo e l'anno scorso è stato un grande successo quello di avere i marinai che hanno cucinato il Brodetto, oltre 1.500 porzioni di Brodetto in tre giorni. Quest'anno pensiamo di raddoppiare il numero delle porzioni di Brodetto che saranno disponibili per i nostri turisti, ma non solo, anche per tutti i fanesi a Lido in questi quattro giorni. E poi non mancheranno i format più riusciti come i cooking show, gli spazi dedicati ai bambini con Brodetto in Kids, approfondimenti sul palco centrale, lo street food, l'escursione in mare con la motonave e poi la novità, tra cui un nuovo spazio dedicato ai migliori vini del territorio e alle vongole. Un evento che vuole diventare sempre più internazionale, infatti la Kermesse quest'anno verrà presentata in esclusiva anche a Barcellona e a Londra. La manifestazione, che ha come obiettivo quello di celebrare il piatto simbolo dell'Adriatico, quest'anno sarà guidata dalla direzione artistica di Federico Quaranta, volto ormai noto dell'evento. La prima novità che porta Federico Quaranta, che tutti conosciamo, è quella di tornare a fare una specie di gara, una competizione, tra sei regioni italiane che presenteranno la loro zuppa di pesce. Ci sarà una giuria molto qualificata, una giuria molto professionale a giudicare questi piatti e terminerà con un vincitore e da quest'anno... La conferenza stampa di presentazione che si è tenuta all'interno della Nucopromo a Fano è stata l'occasione per presentare le analisi e gli impatti del Brodetto Fest nella città di Fano, curati dall'Università degli Studi di Urbino. Brodetto Fest alimenta un giro d'affari superiore a 2 milioni di euro, in particolare 2 milioni e 160 mila euro, e attira oltre 19 mila visitatori, oltre il 60% dei quali provenienti da fuori Fano. Quindi questo è un numero sicuramente significativo che dimostra quanto questa iniziativa sia in grado appunto di avere rilevanza a livello nazionale ma anche internazionale, visto che parecchi dei visitatori sono anche stranieri. Le regioni da cui maggiormente sono arrivati i visitatori sono, oltre che le Marche, Emilia-Romagna e Umbria, ma abbiamo notato una presenza significativa anche di altre regioni del nord Italia. Questa caratterizzazione di Fano per come viene fatta la zuppa di pesce e per il modo in cui viene proposta e anche per la qualità del risultato finale fa sì che Fano possa identificarsi a livello anche internazionale come la città del Brodetto e non è poco in termini appunto di attrattività turistica, di notorietà, di immagine della località, che naturalmente può sfruttare poi questa immagine per far conoscere tutti gli altri aspetti che caratterizzano la città di Fano ma anche del territorio circostante. Quindi questo è un beneficio a livello turistico sicuramente per tutta la regione. Si terrà a Montegiano di Monbaroccio martedì 25 aprile l'undicesima edizione della festa della Crescia Saiku con manifestazione ad ingresso libero dedicata alle uova sode e alla tradizionale crescia di Pasqua promossa dall'Associazione Culturale Montegiano C'è in collaborazione con la Proloco e il Comune di Monbaroccio. L'appuntamento è organizzato dai volontari del paese, protagonista indiscussa la Crescia di Pasqua realizzata interamente sul posto dalle massaie locali con ingredienti di qualità del territorio. L'apertura della festa è prevista alle ore 12, non mancheranno stand gastronomici, musica dal vivo e una camminata naturalistica. Sabato 16 aprile al Parco Miralfiore a Pesaro si è svolta la presentazione del centro estivo dell'Eiscudo ASD, associazione affiliata ad Asi di Pesaro. Anche quest'anno il servizio estivo prevede diverse attività aperte a famiglie e bambini. Un pomeriggio al Parco Miralfiore tra natura e giochi all'aperto per conoscere le attività ideate da Escudo in associazione con ASI per il prossimo centro estivo. Inizieremo le attività il 12 di giugno appena si chiudono le scuole primarie e così almeno daremo un servizio puntuale alle famiglie come ogni anno. Ormai sono 15 anni che facciamo l'attività e proponiamo centri estivi per bambini dai 6 ai 13 anni partendo appena chiudono le scuole primarie e poi invece con l'età dei più piccolini quando chiudono le scuole di infanzia. Quindi dai 3 ai 5 anni inizieremo il 3 di luglio quest'anno. Gli educatori e lo staff di Escudo anche quest'anno organizzano un servizio estivo aperto a tutte le famiglie e accogliendo bambini nelle sedi dei centri estivi Parco e Mare a Pesaro e Fosso Segliore. Diverse le modalità di iscrizione dall'incontro in sede alla possibilità di compilare un modulo online. Siccome abbiamo due sedi, una è al mare in località Fosso Segliore e una al Parco Miralfiore qui a Pesaro avremo bisogno di due punti di iscrizione, quindi ci si può vedere direttamente nella sede qui al parco oppure al mare o meglio ancora online tramite il sito internet abbiamo un link, un modulo di prescrizione che facilita un po' anche le informazioni su costi, su orari, su varie modalità, pacchetti settimanali, le varie attività che facciamo eccetera. In più abbiamo il sito che è www.scudovolley.it sul quale vengono descritte tutte le attività dei centri estivi Parco e Mare. Molto contenti come Asi Pesaro ma in realtà molto contento anche personalmente parlando di essere qua presente a fianco a Francesco dell'ASD Scudo che ogni anno organizza da tantissimo tempo i centri estivi sportivi Parco e Mare e siamo contenti di questo inizio di collaborazione che da settembre 2022 sta andando avanti abbiamo in cantiere assieme a Francesco tanti eventi e quindi non vediamo l'ora di poterli andare a concretizzare poi in campo sia sportivo e non solo. Quindi una presentazione quella di oggi fantastica e un'imbocca al lupo enorme per tutta l'attività estiva che dal 12 giugno partirà. Asi e non solo, supporto importante anche da parte del Comune di Pesaro per il centro estivo, targato e scudo. Stanno partendo le prime presentazioni dei centri estivi, quello delle scudo volley sono dei centri estivi consolidati, sono tante le attività dove c'è modo di collaborare sempre con le scudo volley in modo positivo e propositivo. Ritengo che questi momenti di sport per i ragazzi extrascolastici siano comunque dei momenti di crescita, di condivisione, di socializzazione che fanno bene a loro e anche ai genitori. E di sport continueremo a parlare subito dopo il telegiornale con il consueto appuntamento del martedì condotto da Andrea Maduzzi. Calcio, pallavolo, tiro a volo e city tennis nel menù di questa sera di Sportissimo. Si comincerà con l'Alma che è tornata a vincere al Mancini contro il Monte Giorgio e che ha blindato di fatto la qualificazione ai playoff. Nostri ospiti Alessandro Bizzini, portiere della squadra Granata e centrocampista Mirko Severini in gol domenica scorsa. Poi il volley con la Vigilar, non particolarmente fortunata in gara 1 della finale promozione per la 2, battuta al tie-break da Ortona. Quindi il tiro a volo con l'attività che il tiro a volo Fano svolge nell'impianto di Monte Schiantello. Nostri ospiti il presidente Stefano Battisti e il direttore delle Fiamme Azzurre Mattia Polidori. Infine il city tennis, un'invenzione di Francesco Gazzè con lui. Nostro ospite anche Davide Pagnini. Bene allora, grazie per aver seguito Occhio alla Notizia e buon proseguimento di serata con Sportissimo.